Buongiorno, sono Miguel Tanco, sono l'autore, scrittore, illustratore del mio miglior amico che uscirà con l'edizione M fra poco. L'editore Gaia mi ha chiesto di parlare un po' sul mio libro Ed Eccomi. Il libro parla sui rapporti dei diversi bambini del mondo col suo cane e parla anche dei diversi cani del mondo col suo bambino. È un libro che tratta un po' su come ci specchiamo col nostro miglior amico che è il cane e anche come ci specchiamo col nostro miglior umano che sarebbe il bambino. È un libro che parla sulle prime amicizie, le prime conversazioni, le prime paure, le prime ferite che viviamo attraverso il nostro cane e il nostro bambino. Spero piaccia molto a tutti i bambini che hanno un cane e a tutti i bambini che hanno dei bambini. Grazie e ci vediamo presto. Ciao. Ora, la prossima volta parli te, ok? E io sto dietro, ok, a fare... Esatto. Ciao.